ora apriamo la casa di bing che hanno preso le mie figlie vediamo cosa ci sarà dentro quanta roba vediamo un po vediamo la sorpresa cosa c'è è una gomma di un personaggio di bing poi cos'altro c'è polaretti no no scusate sono delle gelatine alla frutta polaretti il carbone classico marshmallow ecco cannucce ecco cannucce dei polaretti e queste qui sono quelle gommoselle molto bene allora adesso ci mangiamo tutto ciao alla prossima